ciao a tutti anche questo video in collaborazione con la marco bindi live band io sono come sempre a berta filava tutti i contatti per raggiungermi li trovate come sempre nella descrizione unita al collegamento con le altre playlist lasciate un like e iscrivetevi al mio canale oggi vediamo insieme come creare una simpatica scatolina a forma di diamante il lo schema lo troverete come sempre scaricabile sul blog berta filava store e a piedi pagina trovate anche il file vettoriale da scaricare gratuitamente eccomi qui lo schema che andiamo a realizzare questo vi faccio vedere come si monta spesso mi domandate se è una stampante roba varia no e cartoncino ho stampato il foglio dello schema lo ritagliato e l'ho passato sopra il cartoncino poi con un cortello ho fatto le pieghette dove stava il tratteggiato allora seguendo appunto il tratteggiato andiamo a creare le pieghe questo schema rispetto a quello che trovate in giro similare è modificato per poterlo montare così dovete avere il mio schema ripeto è scaricabile gratuitamente sul blog berta filava store a piedi pagina per chi ha il plotter avete anche file vettoriale per chi non sa quale il vettoriale quello punto se adatto al taglio per plotter ok chi vuole può venire anche su facebook se ha domanda e chi vuole comprare il cartoncino già tagliato e poi assemblarlo da sola me lo puoi chiedere su facebook dovete facciamo tutte le pieghette bene bene io con le ripeto con la parte del cortello che non taglia mi rifaccio col taglieri con la riga tutte le pieghe vedete questo è un cartoncino glitterato 250 sto facendo una scatolina a forma di diamante quindi non poteva che essere color oro allora ho tagliato tutto prendo l'estremità e ho la punta e l'attacco alla letta vedete appunto perché è stato fatto col cortello non le pieghe non sono eccolo qui vedete mettiamo un po di colla e facciamo aderire ripeto questo questa scatolina in particolare come tutte le altre si chiude così ma si chiude questo specifica schema in questo modo perché ce ne sono altri ma li ho visti complessi e quindi ho semplificato ma sono semplificata lo schema ok ora con l'aletta mettiamo la colla iniziamo a incollare praticamente l'aletta al nostro ottagono tagliato vedete per creare proprio il diamante e continuiamo così per tutti i lati chi vuole venire su whatsapp mi può mandare tramite messaggio facebook il numero di telefono siamo un gruppo di creative che si occupano di tutti i rami non facciamo vendita ma ci diamo solo tanti consigli è una bella realtà chi vuole collaborare perché ora stiamo solo collaborando con altre creative a creare dei tutorial potete inviarmeli tramite email io sarò ben lieta di pubblicare il tutorial e di lasciare il collegamento alla vostra pagina e siamo arrivati alla fine la fine la riconoscete perché c'è la letta di chiusura che dimettiamo la colla mi vogliamo facciamo aderire bene e poi chiudiamo qui vedete questa scatolina con il cartoncino letterato oro ha un effetto pazzesco la scatolina è pronta ora potete inserire in questo momento caramelle ciuffetto e roba ore all'interno e chiudete semplicemente e voilà la scatolina è pronta bella come il sole ripeto lasciate tanti like il like aiuta la vita del canale poi ovviamente se c'è qualche imperfezione la piegate con le mani ma è perfetta grazie a tutte e al prossimo video un baciotto grazie a tutti grazie a tutti